salve a tutti i ragazzi con questo video vi farò vedere come si può riconnettere il nostro controller alla playstation 4 se anche se vediamo che non abbiamo una connessione né wireless ne tramite il cavetto usb della playstation stessa la prima cosa è quella di tenere spenta la playstation 4 per fare questo questo passaggio e adesso andiamo la parte posteriore del nostro dualshock qui dietro c'è un pulsantino piccolino che si trova al di sotto della levetta l2 lo premiamo io lo premo con uno stuzzicadenti per tre secondi 1 2 3 ok e questa facendo questo abbiamo resettato il nostro controller adesso il passo successivo sarà quello di connettere il nostro cavetto usb della playstation con il controller e premere il tasto avvio che si trova nella console adesso la playstation non l'abbiamo accesa e sta andando nella schermata principale fatto questo passaggio ci verrà chiesto di premere il tasto ps per poter connettere il dualshock alla playstation stessa aspettiamo che si accenda del tutto e vi farò vedere come si fa eccoci qua come notiamo c'è scritto premi il tasto ps per usare il controller non lo premiamo il controller automaticamente viene riconosciuta dalla playstation se vi sono stato utile iscrivetevi nel mio gruppo numerosi grazie mille ragazzi grazie mille ragazzi